Per evitare gli equivoci occorsi nella visita di qualche mese fa, quando la polizia di scorta ebbe la brillante idea di far circolare la comitiva presidenziale nel traffico infernale della tangenziale di Roma, facendogli in questo modo perdere l'appuntamento a Cinecittà con i sindacalisti dell'USB, gli attivisti, la popolazione del quartiere e alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, tra l'altro erroneamente orientati da un assessore stampa contrario a sviluppare relazioni con l'USB, il presidente dello Stato plurinazionale Evo Morales ha realizzato gli incontri politici e la conferenza con i media nella sala stampa dell'hotel Ambasciatori. Infatti, Evo Morales è tornato a Roma per incontrare Papa Francesco, con cui ha abbordato una serie di questioni che il Papa sta sottoponendo ai capi di Stato. In secondo luogo, sono state esaminate alcune proposte formulate dalla Commissione Episcopale della Bolivia. In seguito, il presidente boliviano, dopo aver corrisposto con i mandatari dello Stato italiano, ha apprezzato l'impegno del candidato progressista Bernie Sanders, che sta cercando di conquistare uno spazio all'interno del Partito Democratico e poter concorrere alla presidenza degli Stati Uniti. Per questo, Evo Morales ha consigliato a Bernie Sanders di fare molta attenzione, perché negli Stati Uniti i candidati alla Casa Bianca sono sempre sinonimo di interessi. a differenza di Bernie Sanders, che ha emesso severe condanne nei confronti del mercato e degli uomini di Wall Street. Nella conferenza stampa, Evo Morales ha ripetutamente attaccato la politica imperialista degli Stati Uniti, non solo per sviluppare nel mondo conflitti armati senza fine e con conseguenze disastrose per i popoli, ma anche per voler imporre un regime di dipendenza geostrategica attraverso la quale si cerca di promuovere una falsa libertà di mercato, che in realtà è una forma per dare sempre più benefici e facilitazioni alle banche e alle multinazionali degli Stati Uniti. Una questione che il presidente boliviano ha sottolineato rispondendo al giornalista di Contropiano, ricordando che gli Stati Uniti vogliono ricomporre il proprio comando imperialista soprattutto in America Latina, dove si è registrata l'interferenza statunitense nelle elezioni argentine, in quelle del Venezuela, dove è tuttora in corso una guerra economica e mediatica contro il governo bolivariano di Nicolás Maduro, che riceve la nostra completa solidarietà e appoggio. Un'interferenza che è presente anche in Ecuador per creare difficoltà al presidente Correa. E poi anche in Brasile, dove è in corso un procedimento di impeachment che in realtà sarà un colpe bianco contro la presidentessa Dilma Rousseff. Anche da noi in Bolivia, in occasione del referendum per la modifica di un articolo della Costituzione, abbiamo registrato questa interferenza, che però non ci ha sconfitto, anzi ci ha fatto capire come dobbiamo prepararci per le prossime elezioni. Poi, rispondendo alla domanda formulata dal nostro giornalista, il presidente Evo Morales ha ricordato che tra una settimana si realizzerà una conferenza internazionale per decidere il da farsi sul terreno della lotta al narcotraffico. A questo proposito, Evo Morales ha ricordato che è molto strano che il governo degli Stati Uniti, che destina miliardi di dollari per dotare la DEA di una struttura paramilitare ed esigere che questa operi nei paesi dell'America Latina, dove esistono le centrali mafiosi del narcotraffico, poi questo stesso governo non emette una unica sanzione nei confronti delle banche statunitensi che accettano nelle sue agenzie offshore i guadagni illeciti dei narcotrafficanti. Guadagni che poi, secondo la denuncia delle Nazioni Unite, sono riciclate dall'agenzia di investimento dei broker di Wall Street per essere usati nei fondi di pensione, nei pacchetti di azioni di piccole e grandi industrie degli Stati Uniti, nei fondi di investimenti immobiliari e logicamente gli investimenti che in realtà servono per finanziare le campagne elettorali negli Stati Uniti e in tanti altri paesi. A questo proposito, Evo Morales ha detto non si capisce perché il governo dello Stato più forte del mondo, che dispone di mezzi tecnologici che nessuno ha e che dispone anche di fonti di informazione ineccepibili, non è capace di impedire che il proprio sistema finanziario sia il principale sostentacolo del narcotraffico. Infatti, ha voluto poi sottolineare Evo Morales, senza il lavaggio dei propri attivi da parte delle banche degli Stati Uniti e di alcuni europei, il narcotraffico avrebbe i giorni contati. Con molta pazienza poi Evo Morales ha spiegato al giornalista spagnolo dell'agenzia F che in realtà non esistono conflitti con la Commissione Episcopale della Bolivia, visto che sono in corso una serie di carimenti su alcune questioni, alcune delle quali sono state toccate nell'incontro con il Papa. L'unica nota negativa è stata l'assenza del Super Trump della stampa italiana, cioè il quotidiano La Repubblica che dedica alla Bolivia un po' del suo preziosissimo spazio solo quando si tratta di criticare il governo e l'operato di Evo Morales. Grazie.